Musica 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 Ultimo giorno Musica Come ti senti? Eh per ora è normale Perché ancora ci dobbiamo passare tutto il giorno Quindi Andiamo all'acquario Il momento è normale Volevamo andare alle terme Solo che il martedì è la giornata dei nudisti Così c'è scritto nella recensione Ma di vedere i nudisti onestamente non ci tengo Magari evitiamo Mi fa un po' schifo Senso fece Giù Più che altro è che puoi beccare di tutto Appunto Puoi beccare anche il vecchio Sì, ho la vecchia Sì, ho la vecchia Senso fece Senso fece Sì Vabbè a posto No No, mi sono sbagliata Non ho detto Guarda, fermo Sì Sono mio che faccio il bagno È vero? Sì 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.